Il deputato Ivan Scalfarotto ha facoltato di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Ricordo che ha cinque minuti. Sì, grazie Presidente, grazie al Vice Ministro Pistelli. Io mi dichiaro soddisfatto, ma con una profonda preoccupazione e con un grande peso nel cuore. È una preoccupazione e un peso che riguarda la Russia, ma non soltanto la Russia. La sensazione è che ci troviamo, signor Vice Ministro, in un momento in cui i diritti umani non se la passano particolarmente bene. Abbiamo ancora tutti quanti negli occhi i recenti eventi turchi. Io continuo anche ad avere una preoccupazione profondissima per tutto ciò che sta accadendo in Ungheria, all'interno dell'Unione Europea, dove un governo membro dell'Unione continua a tenere una linea politica e anche di modifiche costituzionali che sembrano, come dire, inconciliabili con l'appartenenza all'Unione Europea. Mi riferisco a una recente intervista anche di Martin Schulz, allegato a un noto quotidiano italiano, che diceva che sembra quasi più facile controllare un Paese che vuole diventare membro dell'Unione che un Paese che è già membro dell'Unione. Sembriamo essere così ficcanti quando arriva il momento di stabilire condizioni economiche, così deboli e indifesi e incapaci di reagire, quando invece ciò che viene messo a rischio sono le libertà dei nostri concittadini dell'Unione Europea. E se ci sono preoccupazioni per questi Paesi, la preoccupazione per la Russia è massima. Io lo dico anche da persona che ha vissuto e lavorato in Russia per molti anni, da persona omosessuale peraltro. E mi chiedo io stesso se oggi potrei vivere e lavorare in Russia serenamente con la mia famiglia come è successo soltanto qualche anno fa e temo che forse così non sarebbe. Il problema russo è molto ampio, come lei diceva, c'è un problema legato alla libertà degli organi di stampa, c'è un problema legato... Noi ancora oggi ci chiediamo chi abbia ucciso Anna Polifolskaya e quindi le libertà democratiche sono veramente messe a dura prova. Lei faceva anche un accenno alla vicenda dei cittadini italiani. È vero che ovviamente quando visitiamo altri Paesi per turismo siamo tenuti a rispettare quelle che sono le regole interne, qualsiasi sia il fondamento che queste regole hanno. Però è anche vero che la Russia è un Paese particolare, è un Paese che ha cercato con forza il proscenio internazionale. Noi sappiamo che nel 2014 la Russia ospiterà i giochi olimpici di Sochi. Ecco, allora io penso che ci sono situazioni nelle quali si può anche dire che un turismo che non arriva e quindi un flusso di persone che non arrivano può essere un danno per il Paese che organizza una manifestazione così importante. Ora non si può pensare di conservare lo spirito olimpico decubertiniano e allo stesso tempo minacciare una parte dei turisti e delle persone che visiteranno quel Paese. Insomma, ecco, io condivido con il collega Zane il fatto che probabilmente possiamo prendere delle posizioni un po' più nette che certamente i canali diplomatici li conosciamo e stiamo facendo sicuramente, il Governo sta facendo quanto deve per fare le dovute pressioni all'interno dell'Unione e all'interno della comunità internazionale. Però io credo, e veramente faccio appello in un certo senso al track record, al passato del Ministro Bonino che credo abbia una reputazione internazionale come persona attenta e appassionata rispetto ai diritti umani per prendersi cura di tutto questo. Essere omosessuale in Russia oggi è veramente molto difficile chi si occupa dei diritti di quella minoranza che non è una sparuta minoranza è una minoranza quantitativamente rilevante che ecco, chi si prende cura di quella minoranza lo fa a rischio della propria libertà e della propria incolumità personale e questo comporta non soltanto una compressione del diritto di espressione e libertà di manifestazione del pensiero ma una compressione del diritto alla vita a costruire relazioni sociali, a costruire il proprio amore e a perseguire il proprio progetto di vita. Io penso che noi questo non possiamo accettarlo e mi aspetto dal nostro Governo che abbia una posizione di leadership una posizione di avanguardia in questo senso e non soltanto che si accodi a quanto l'Unione Europea e la comunità internazionale stanno facendo. Quindi mi dichiaro soddisfatto ma l'aspetto ancora qui Vice Ministro per sapere come procede la cosa. Grazie. E' così esaurito lo svolgimento di interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno la seduta è sospesa riprenderà le 15 con il seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative a salvaguardia del bilinguismo nella toponomastica della provincia autonoma di Bolzano. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.